signori navigator film di fantascienza del 1986 quattro anni dopo et niente di eccezionale voto 7 film un po per bambini carino comunque se vogliamo calcolare degli anni in cui l'hanno fatto c'è anche dentro la sarah jessica parker praticamente l'attrice principale di sex on the city giovanissima anche lei e basta così un'occhiatina se volete dargliela lo trovate su team visione su prime video un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale se volete lasciate un bel like ciao ciao